Eccolo Alessandro Plizzari, abbiamo detto di tutto in telecronaca, hai detto di tutto tu Massimo in studio, dattelo tu il voto. No, non è questione di voto, è questione di essere partecipe alla vittoria della squadra, questa è la cosa più importante. Se il voto può essere 6, 7, 8 non mi interessa, è importante dare un contributo. Hai dato più di un contributo perché sei stato determinante contro l'Arezzo, sei stato determinante questa sera. Dicevamo prima proprio con Massimo in studio che stai tornando il Plizzari che conoscevamo ai tempi del Milan. No, come dice il mister, siamo lì apposta, ognuno a dare il proprio contributo agli altri. Quindi sono contento che anche oggi ho potuto dare il mio contributo, quindi tornare, non tornare, io ho scelto di fare un percorso e sono contento del percorso che ho fatto e di aver scelto Pescara. Quindi sono tranquillissimo e prestazioni sono dovute al duro lavoro grazie al mister. Tra la parata al 93esimo su Cinaglia, se non ricordo male, contro l'Arezzo e quelle di questa sera, qual è stata quella più bella per te e più difficile? Ma quella con l'Arezzo diciamo che era sullo scadere, quindi la partita era finita, ma non è questione di bella o non bella, è questione di importante o non importante. Quindi sono contento di aver fatto paradi importanti. Allora la più difficile? La più difficile, non lo so, sono attimi che anche quando fai bene io cerco di mettere subito da parte, di tenere il bello e soprattutto guardare gli errori, quindi preferisco parlare degli errori. Non l'ho fatta a Zeman questa domanda, ma la faccio a te. Il Pescara attualmente in attesa del posticipo di domani tra Torres e Carrarese è prima in classifica. È presto, non ci guardate? Certo, è molto presto, non ci guardiamo, siamo una squadra giovane, però certamente stare lì è importante, però dobbiamo cercare di guardare prestazione per prestazione, partita dopo partita, perché è troppo presto. Siamo un gruppo giovane, quindi con calma. Ti do l'auricolare per una domanda o una da studio e poi salutiamo Alessandro Plizzari. A destra o a sinistra? Questo è a sinistra, ok, ti abbiamo messo sotto e mezzo comunque. Naturalmente domanda... Studio, vi ascolta. Sì, che sarà rivolta da Fabio Ferraresi. Fabio. No, io come ho detto al mister, chiaramente a te la rivolgo in altri termini, quanto è importante per il portiere avere autostima, sentirsi sui suoi livelli, visto che tu comunque avevi avuto l'anno scorso un periodo di difficoltà, visto che è un uomo da solo, che non è che ha tante persone con cui poter cercare di rimediare degli errori. È fondamentale, credo, sentirsi forti. E tu in questo momento, secondo me, sei tornato quello che conoscevamo. Grazie, volevo ringraziarti per i complimenti. Ti dico per il portiere, perché è un solitario, diciamo che è molto importante stare con la testa sempre sul binario giusto, perché è un attimo passare da presuntuoso e un attimo cadere giù nel burrone. Quindi bisogna sempre rimanere sul pezzo, non in partita in partita, ma in allenamento e in allenamento, secondo me, è quello che aiuta a crescere la mentalità non solo del portiere, ma anche della squadra. Ti chiedo una cosa, Alessandro, prima di salutarti, poco fa Antonino De Marco ci ha tranquillizzato sulle sue condizioni, non so se hai sentito Pellagani sul ginocchio. Ho sentito Pippo, ha detto che aveva sentito un piccolo fastidio, ma non dovrebbe essere nulla di grave, lo spero, perché anche lui è molto importante per la squadra.